Aspetta, lo posso fare con l'una? Ah, voglio fare un'intervista selfie come coltanto adesso tutti fanno selfie con Carlos Ok, ciao! Ciao qui! Oh, turista! Oggi si Sei in vacanza? Si Beh no, massomenos Ieri siamo girato un po' Roma Poco a poco, perché sono girato un po' tardi E adesso niente, siamo qua con la Nolan, Nolan Group Si, guarda, c'è di loro dietro l'Egon, si C'è il tuo casco da firmare Si, un po' di promotion, un po' di presenza e un po' di giro Come lavoro adesso tu fai fisioterapia tutto il giorno, no? No, no, terapia no, però adesso già per fortuna è andato abbastanza meglio Sono già in un momento di uscita Manca un po' per andare a sciare, per fare altri sport Però adesso sto andando già con la bicicletta No, posso dire che sono la recta finale Comunque tu, guarda, è brutto che ti sei fatto male Però, avendo tu smesso, è meglio che non puoi andare in moto Così non ti viene la voglia Così è vero Così tu la mattina ti svegli e non hai preoccupazioni Ah, però potevo forse andare in moto Invece no, devi fare fisioterapia, quindi No, la mia decisione di smettere era molto decisa Metà anno io l'ho deciso di smettere E' ovvio che quando dopo lo devi fare sei in perfetta forma Le cose vanno bene, hai delle offerte Per continuare sempre si fa più difficile, no? E questo Troi soffre, Viaggi soffre No, io no, io ti dico, adesso sono molto... Io ho fatto, credo che la mia attività Sono molto satisfatto, molto consapevole Che è stato il mio periodo La tappa sportiva è chiusa e non si riapre Senti, ma chi è il prossimo Toro? Cioè il nuovo Toro, il nuovo Carlos Chi è che ti assomiglia di più che vedi adesso in mezzo ai ragazzi che ci sono? Non c'è uno? Un gruppo di ragazzi tutti molto forti, molto bravi E vabbè, si è visto un po' in Australia un po' di tutto, no? Però... dobbiamo aspettare che arriva l'Europa Tu non mi vuoi dire chi è il nuovo Toro? No, no, tutti, tutti sono... Quello che ti assomiglia di più, non c'è, non c'è Non lo so, è difficile Ognuno ha il suo carattere Il suo... modifare il suo style E credo che ogni individuo è particolare a se stesso Scusa se ti ho fatto una domanda difficile No, 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 no Spero che tu mi vuoi bene lo stesso Ti volevo tanto bene Ciao, saluta qui Mr. Helmet Ciao Mr. Helmet Ciao ragazzi Sottili amici Ciao